Ciao ragazzi, viene Star News Andiamo di SSX, abbiamo visto prima un video che ci ha ispirato Abbiamo voluto provare a farlo anche noi Giocare tutta la mappa Giocare, abbiamo premuto Allora, va avanti, Zoe è partita Adesso vediamo se riesce ad arrivare in fondo senza nostro aiuto Certo non è quello che aveva pensato l'Electronic Arts È una cosa simpatica, vediamo se funziona Ho perso un attimo, non si torna in pista Va da momenti che cade, le vibrazioni Ricordiamo che SSX uscirà la settimana prossima Su Xbox 360 e PS3 Troverete, leggerete la recensione sulle nostre pagine Al solito qualche giorno prima dell'uscita Se è possibile Tanto Zoe continua la sua gara Terra sul morbido La prossima volta lo facciamo il Xbox 360 che gira meglio Non faccio Nooo Gli diamo una mano un attimo No, aspetta, 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 non devo toccare No, stavo muovendo da sola Non sei fiducioso verso Zoe Siamo quarti Terzi Terza posizione Incredibile Ci ammazza, sta poveretta Se giocavo io arrivavo l'ultimo Io ho capito perché lo chiamo discese mortali Non apparese a braccio Stiamo registrando con un altro PSV La qualità quindi è quella che è Partono anche i trick Scusa Per sofferenza pensare che se avevamo il pad di manno era peggio Sulla pila di giochi funziona il più Siamo al prossimo gara di più Finisce mai eh Terraggio possente Come la barba di Gatti Ok, il terzo posto è portato Ecco il traguardo No, non è vero Un bravo Sì, ecco il traguardo Terza posizione Allora, gli abbiamo dato un aiutino Ci vediamo con il prossimo video Buona serata Ciao a tutti